quindi ha cominciato a scrivere diciamo un po' avanti? dal 97 98 ho detto io scrivevo pure prima ma qualche volta perché il nostro padre Don Nicola Salandra diceva che a lui gli venivano gli ampeggiamenti questo se chissà ci ha contagiato non ha contato nulla delle intuizioni delle idee allora io ho cominciato a dire ma mi è venuta questa, mi è venuta questa idea, ho scritto, allora come ho fatto la chantare cioè fai la poesia e poi ho detto io come ce la chantare, che musica ce la metto allora mamma mia madre cantava le canzoni quando mi metteravamo, quando zappavamo per non sentire la stanchezza, per non sentire il peso della giornata